buona domenica a tutti eccoci nuovamente insieme per rispondere alle tantissime persone che ancora mi chiedono questo bonus da 350 euro sulla busta paga di luglio a ci spetta premesso come già indicato c'è un video integrale sul mio canale youtube dove tutti potete verificare il nome uguale a questo raggio punto nico iudice ma andiamo a farvi una leggera panoramica per farvi comprendere in modo più specifico più chiaro a ci spetta questo bonus una tantum in busta paga questo bonus consiste in una somma come detto una tantum suddivisa in due rate dello stesso importo una verrà versata sulla busta paga di luglio 2024 un'altra di uguale importo luglio 2025 è una somma accreditata a copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal primo gennaio 2022 al 31 marzo 2023 ossia il periodo che è rimasto scoperto dal rinnovo contrattuale l'importo di 350 euro si riferisce ai dipendenti inquadrati al quarto livello e come gli aumenti retributivi tale somma deve essere riproporzionata sugli altri livelli contrattuali cioè l'ammontare di questo bonus cambia in base al proprio livello di inquadramento il rinnovo interessa i dipendenti del settore terziario ripeto settore terziario distribuzione e servizi l'accordo riguarda le grandi catene della distribuzione ventità al dettaglio moderna e organizzata come ad esempio carefour coin ikea casanova chico ovs rinascente zara e via di seguito se si rientra in una di queste categorie di lavoratori con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025 potrebbe essere erogato anche il bonus di cui stiamo parlando però il condizionale è d'obbligo perché come precisato dal rinnovo ccnl questa somma aggiuntiva spetta solo ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024 ossia alla data della sottoscrizione dell'accordo inoltre dato che lo scopo di questa una tantum è coprire il periodo dal primo gennaio 2022 al 31 marzo 2023 che è rimasto scoperto dal rinnovo contrattuale l'erogazione prevista solo a favore di coloro che erano assunti in questo periodo di carenza contrattuale infatti per calcolare l'ammontare del bonus bisogna suddividere l'intera somma in 15 quote mensili ossia i mesi che vanno da gennaio 2022 a marzo 2023 ciascun lavoratore avrà diritto all'importo mensile della somma moltiplicato per i mesi di effettivo servizio prestato in pratica l'una tantum spetta in misura piena solo a chi era in forza per tutti i mesi dal primo gennaio 2022 al 31 marzo 2023 in tutti gli altri casi l'importo versato in pustapaca potrebbe essere minore peraltro come se non bastasse l'ammontare della somma potrebbe essere ulteriormente ridotto in proporzione ai casi di assenze o aspettative non retribuite part time sospensioni o riduzioni di lavoro concordate con i sindagati instaurazione e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di copertura ovviamente a questo bisogna aggiungere che per i lavoratori come già detto del quarto livello il bonus è di 350 euro suddiviso in due rate luglio 2024 e luglio 2025 vediamo brevemente come cambia l'importo del bonus in base livelli di inquadramento per livello quadro il bonus è pari a 607 euro e 62 centesimi sempre diviso in due rate per il primo livello parliamo di 547 euro e 34 centesimi per il secondo livello l'importo di 404 euro e 68 centesimi poi il quinto livello arriviamo a 316 euro e 22 centesimi poi teniamo il settimo livello 243 euro e 06 centesimi infine dimenticavo c'è ancora il sesto livello e parliamo di 283 euro e 90 centesimi ricordandovi che gli importi che vi ho detto suddivisi in due rate